Musica Ben ricottornati anche quest'oggi cari telespettatori, ben arrivato al nostro nuovo ospite, ve lo presento, nuovo perché ha un incarico, cioè non nuovo, lo conoscete già. Ma dicevo nuovo per questo ricarico recentissimo, avevo il piacere di avere qui con noi in studio Riccardo Masin, presidente del Parco dei Colli Euganei, ben arrivato qui con noi presidente. Buongiorno a tutti. Da un po' di tempo però sindaco di Galzignano Terme, che è un comune dell'area sempre della provincia di Padova dei Colli, presidente provinciale di Federcaccia, insomma ha diversi ruoli, incarichi e competenze. E allora tra le tante competenze direi di incominciare prima di tutto come sindaco, perché è molto importante il suo ruolo in un comune dei Colli. Se ne chiacchieravamo prima fuori onda, se ne vuole fare l'appello agli over 80, chissà che non seguono la televisione, che non hanno ricevuto il vaccino, colga questa occasione mediatica per farlo. Esatto, diciamo che adesso come amministrazioni comunali siamo impegnati anche su questo compito importante, che è quello di riuscire a reperire tutti i colori, soprattutto gli ultrottantenni, che non hanno fatto il vaccino nei punti vaccinali o nelle varie attività che sono state fatte. Quindi cosa dovrebbero fare? Qualcosa di molto semplice per loro? Molto semplice, dovrebbero innanzitutto andare sul portale, eventualmente se hanno la possibilità, in primis magari con i familiari, insomma, con i familiari in molti giorni. Quindi chiamare il nipote, chiamare i figli e dire fammi sto favore. Esatto, chiamare i figli e quindi fare direttamente la prenotazione online, che oltretutto funziona benissimo e in questo modo si riducono quelle che sono le code e soprattutto si riducono quelle che sono i tempi morti ed è velocissimo. E anche si fa un pre-screening rispetto a quelle che sono alcune patologie, dato che comunque in qualsiasi caso nel sistema informativo dell'Ulss ci sono inseriti un po' tutte le problematiche che può avere un anziano. In seconda istanza si possono recare presso le farmacie, con cui c'è già una convenzione sempre per iscrizione al portale e poi possono venire anche in comune perché lo facciamo anche noi in questo servizio. Il dubbio nasce soprattutto in certi comuni piccoli dell'area dei Colli, voi siete anche abbastanza concentrati, però ce ne sono tanti, poi lei diciamo che come presidente del parco ne rappresenta 15, possiamo dire, questo ruolo istituzionale. Molti sono isolati, non si muovono da casa, sono molti anziani, c'è il dubbio che effettivamente non abbiano contatti sociali o se non molto rari, perché effettivamente si è scoperto che alcuni non sono proprio a conoscenza di queste campagne, di queste cose, non sanno neanche come muoversi. Il telefono forse ce l'hanno, c'è la possibilità che queste persone magari se sentono questo appello possano telefonare a qualcuno nel comune per dire ci sono, venite a farmi vaccino a casa, oppure è meglio che chiamino il medico di base e lo segnalino. La seconda ipotesi è quella corretta, fortunatamente nelle piccole entità come possono essere anche i comuni dei Colli che sono mediamente di piccole dimensioni, abbiamo ancora i medici di base, i medici di famiglia che non fanno solo l'attività di medico, ma anche sono un po' consulenti delle famiglie, perché molte volte i medici di base sono a loro volta cittadini all'interno di quei comuni, conoscono comunque un po' tutte quelle che sono le situazioni un po' critiche rispetto soprattutto al mondo degli anziani e quindi consiglierei proprio di contattare il proprio medico di base. Che è la cosa più semplice. Sì, oltre a tutto il medico di base c'è già una campagna vaccinale attiva anche attraverso i medici di medicina generale e quindi di conseguenza ad esempio ho visto a Gazziniano i miei medici hanno già iniziato, hanno già iniziato sia per le persone oltretantenniche che non possono muoversi con i vaccini a posta perché hanno delle patologie particolari, per cui poi anche la vaccinazione viene fatta a seconda delle patologie che uno ha e quindi ho visto che funziona, hanno già iniziato dalla settimana scorsa, quindi contattare il medico di base è la cosa migliore. Contattare il medico di base, quindi questo è un appello per quel che riguarda un po' tutti i comuni perché si stanno cercando, tutte queste persone sono migliaia di plurotantenni che non si trovano, che non sono stati vaccinati. Allora detto questo passiamo all'altro tema abbastanza caldo e importante, ce ne sono diversi, comunque allacciamoci subito un po' al discorso che si stava facendo anche il Presidente Zai adesso in conferenza stampa, le riaperture, Zai rappresentano una realtà che è turistica tra l'altro perché Parco Colli sia ha vocazione agricola che ha vocazione però anche turistica e quindi l'apertura del discorso degli agriturismi, della ristorazione eccetera, con questo coprifuoco che è caduto addosso come una tegola deludendo molte aspettative, ma non è solo questione di coprifuoco, e proprio sono tante regole che hanno un po' lasciato così interdetti gli operatori del settore, anche in prospettiva turistica proprio di prenotazioni, poi abbiamo tutta l'area termale che comunque converge nel Parco Colli perché fa sinergia, fa sistema e questo non è un aspetto positivo, lei come la vede? Il nostro comparto, quindi il nostro territorio, diciamo lavora per il 70% con l'attività turistica, perché effettivamente come nel Veneto l'industria più importante è il turismo, di conseguenza anche in Colli l'industria più importante è il turismo, abbiamo sicuramente la parte agricola, però la parte agricola si lega molto a quella che è, diciamo così, la parte enogastronomica del nostro territorio, quindi abbiamo da una parte le terme con alcuni comuni che fanno la forza, che sono insomma quelli più importanti, che sono a Buona Montegrotto e poi c'è tutto il comparto correlato al turismo termale, che è quello della visita del territorio, con gli agriturismi, con la visita delle nostre bellezze monumentali, anche con tutte quelle attività anche economiche, che sono gli agriturismi, i nostri ristoranti, le nostre tattorie e tutto il resto. Diciamo che il passaggio in zona gialla e quindi queste nuove regole lasciano un po' di amore in bocca rispetto alle aspettative che probabilmente tutto il territorio, ma anche tutte le attività economiche vedevano con il 26, perché il fatto che ci sia il coprifuoco alle 22, il fatto che comunque le attività, ristoranti e bar possano rimanere aperti, possono fare anche le consumazioni al tavolo, ma solo esclusivamente all'aperto, il fatto che comunque in qualsiasi caso non c'è proprio chiarezza su quella che è la nota interpretativa, quindi le norme interpretative rispetto a questo nuovo decreto legge. E questo sicuramente creerà confusione, creerà il fatto che tantissimi si recheranno presso i nostri uffici per riuscire a capire come devono comportarsi, presso i loro sindacati per riuscire a capire come interpretare le regole. Diciamo così che è una ripartenza, mettiamola, a metà rispetto a quello che tutti noi ci aspettavamo. Assolutamente sì. Ci sono tanti operatori del settore turistico che lavorano nei territori del Parco Colli? Eh sì, ce ne sono sì tanti. Abbiamo tantissime attività che tra i lockdown, tra le zone arancioni, tra la parte delle zone rosse, i coprifloco, i blocchi altalenanti che abbiamo avuto da settembre praticamente del 2020 fino ad oggi alcune attività non hanno mai aperto perché effettivamente non c'era neanche la possibilità per investire, anche perché c'era poca certezza delle regole ma anche poca certezza dei periodi. Quindi rischiavano di fare investimenti che poi alla fine non andavano... Ma infatti questo è il problema, che adesso una persona per darsi un attimo di prospettiva, perché nella depressione globale che coinvolge moltissime persone, dice beh guardo almeno all'estate, alle vacanze, voglio programmare qualcosa, ma se io già incomincio, che metto paletti dappertutto, e carta verde, pass e c'è il tampone ogni 48 ore se uno va a fare un viaggio itinerante anche per l'Italia, comincia a dire senti facciamo così, guardiamo un altro paese, che forse è anche meglio, e dall'estero penso che facciano lo stesso perché poi alla fine non va a mettersi in un rompicapo di regole, di limiti di ogni genere. Vediamo un attimo il messaggio che è arrivato prima, che non sono riuscita a leggere così lo può commentare direttamente anche lei, vediamo un attimo. Ma quali aperture? Io vengo sui colli a cena e a che ora devo tornare? Fanno le leggi con i piedi. Pure il CTS ha detto che non parte da loro l'iniziativa di mantenere il coprifuoco, quindi scelta politica che si fonda su cosa? Tartassare un popolo esausto, tutto tornerà indietro, non si preoccupino i signori. Come la vede? Il telespettatore ha accentuato l'obiettivo in pieno, effettivamente dai delle riaperture, lasci il coprifuoco, come fai a gestire? Uno va a cena la sera e bisogna riuscire a capire. Dovranno dare delle note interpretative, perché io dico sempre comunque la norma dice coprifuoco non si può muovere, ci si può muovere solo fino alle 22, ma se uno rimane a cena fino alle 22 in punto e poi si sposta per ritornare a casa, in teoria la regola dice che rientro è sempre consentito, quindi effettivamente… Sì, ma non dice che sia consentito senza la sanzione. Esatto, bisogna capire poi come viene interpretato dalle forze dell'ordine e quindi speriamo che alcune FAQ, sia dalla parte della Regione sia dalla parte del Ministero, siano più esaustive sull'argomento. Questo assolutamente. Allora è fondamentale. Un altro messaggio che è arrivato, adesso vediamolo insieme. Quale turista viene da noi quest'estate a queste condizioni? è quello che dicevo anch'io. Ma guardi, ma c'è un altro motivo secondo me che ci penalizza come territorio. Il turismo in generale, sia quello termale e sia diciamo così l'attività che viene fatta all'interno dei colli, quindi su cui soffruiscono le nostre attività ricettive, quindi sto parlando ad esempio escursionismo, tutto il resto, tutto quello che porta anche il turismo a morbi e fuggi, anche quello in giornata, che è un turismo comunque che vale, che vale, che consuma, che ha un impatto importante economicamente nel nostro territorio. Il nostro territorio ha due periodi importanti di alta stagione, chiamiamolo così, che è il periodo primaverile e il periodo tarda estate e autunnale, perché è quello poi il periodo. Perché poi mentalmente anche il turista normale, ma anche quello che è residente all'interno della regione Veneto o anche l'italiano, poi si sposta su altre location. In estate uno preferisce andare o in montagna o al mare. Quindi effettivamente queste nuove regole ci danno un'ulteriore, diciamo così mazzata al nostro comparto, perché è questo il periodo più importante, è questo il periodo con cui abbiamo più regole. No, l'osservazione è cedentissima. Se tu mi liberi a luglio, dove nei colli, per quanto fresco possa essere, sono 30 gradi, se non è montagna insomma. Esatto, uno tendenzialmente va al mare e di montagna. Quindi sono regole che salvaguardano un po' più quei comparti a questo punto rispetto anche a tutte le date e le scadenze che ha dato a questo nuovo DL. Ed è questo che secondo me deve essere valutato. È per quello che io dico sempre che tante volte le regole vengono fatte sempre su livelli differenti. Bisognerebbe avere la capacità di riuscire a vedere tutto il comparto e non solo un comparto che potrebbe essere quello balneare a questo punto. Secondo me chi è che usufruisce meglio del cambiamento in questo momento? Probabilmente quelli che hanno le attività turistiche nelle zone balneari perché effettivamente probabilmente rispetto... O anche nel sud Italia dove magari può forse far più caldo. O anche nel sud Italia. Secondo me tra giugno e luglio con le aperture e con quello che si... con le vaccinazioni, con la campagna vaccinale che verrà fatta, con carta verde o non carta verde, con tampone... con tampone molecolare o senza tampone molecolare con le 48 ore e probabilmente le persone riusciranno a spostarsi meglio. Però c'è un'altra osservazione che davo per carità anche quella, dopo aprono all'interno i locali purché tu abbia il pass verde. Insomma non è che questo pass verde, questo tampone molecolare lo fai gratuitamente ovunque, ha un costo. Se pensiamo a una famiglia media, io penso che non siano due persone ma saranno quattro, forse anche i bambini devi farlo, non sono stati esclusi. Sì, perché non sono vaccinati, vaccinano fino ai 16 anni e non vengono vaccinati. Esatto, mi sembra che sia un costo abbastanza rilevante, perché adesso ci aveva scritto una mail, un signore dice facendo l'osservazione, sono 15 volte 4, no? Sono 25 euro il tampone. Esatto. E normalmente, alcuni dicono 30, comunque facciamo un 25 per quattro persone, perché non vogliono essere 5 o comunque forse anche 3, sono pesi rilevanti. 48 ore prima di uno spostamento, insomma mi sembra abbastanza penalizzata e poco democratica questa cosa qui, visto che allo stato attuale non tutti sono vaccinati e parliamo di se uno è stato vaccinato a gennaio, febbraio, perché fa parte delle forze dell'ordine, sei mesi della vaccinazione, vuol dire che arrivi a luglio, che vai in vacanza, che la tua vaccinazione è scaduta. Mi fa sorridere veramente. Sì, poi sulla questione della vaccinazione bisogna capire anche con che vaccino e con che in tempistica, perché ci sono due vaccini che hanno tempistiche del secondo richiamo tra i 15 e i 30 giorni. Ci sono gli altri due vaccini invece che hanno una tempistica di 90 giorni, quindi effettivamente deve essere vaccinato sul ciclo completo, perché quello è il discorso, ciclo completo. Quindi facciamo un esempio, chi viene vaccinato in AstraZeneca oggi, dovrà farlo fra tre mesi, richiamo, quindi effettivamente dovrebbe essere la maggior parte quelli che vengono vaccinati con questi vaccini e probabilmente secondo me se la campagna vaccinale va bene e non abbiamo problemi degli approvvigionamenti a livello nazionale, probabilmente per luglio, agosto dovremmo avere almeno, spero vivamente, il 50% della popolazione vaccinata e quindi questo potrebbe darci un volano in più. Senza due, se facciamo un conteggio, diciamo così, tempistica rispetto a quello che è stato vaccinato fino ad oggi. Però sono sempre restrizioni, sempre pesanti, che comunque non è che fanno sempre piacere, tenendo conto che poi adesso c'è questa variante nigeriana che è già comparsa all'ospedale, non so, di un ospedale a Milano e quindi quando compare lì c'è del terrore che non ha copertura vaccinale, quindi attenzione, non è che di nigeriani ce ne sono pochi in questo territorio. Allora, smetti, speriamo, confidiamo. Lei ha avuto segnali di agitazione nell'ambito del parco per qualche, sempre con vocazione turistica, che riguardano questi ultimi provvedimenti? Guardi, è di poche ore, poi alla fine è il provvedimento e quindi di conseguenza probabilmente nelle prossime ore avrò sicuramente delle richieste di delucidazione in merito, soprattutto la normativa. Io le faccio un esempio semplicissimo, quello che ho fatto stamattina, ho pubblicato una pagina Facebook del Comune, che è quella dove diamo le informazioni più spicce, che amo io alla popolazione, a quelli che insomma sono più attivi sui social e subito due dei miei ristoratori mi hanno chiesto domande sul discorso del coprifuoco, della distanza dei tavolini e tutto il resto, quindi ti dico e l'ho pubblicato da due ore e in due ore mi sono già arrivate due o tre richieste, quindi penso proprio che nei prossimi giorni saremmo abissati. Eh sì, infatti non appena una persona riesce a macinare e soprattutto a vedere se arrivano prenotazioni oppure no, con che osservazioni, con che tipo di problematiche. Prima di andare in pubblicità, leggo l'ultimo messaggio che era arrivato, se gentilmente dalla regia ce lo rimettono in onda, che così vediamo, eccolo qui. Solo un giudice tramite custodia cautelare può limitare la libertà individuale. Nessun decreto di PCM e carta verde possono farlo, pure le multe secondo il Tribunale di Milano sono inefficaci. Saluti. Magari dal punto di vista giuridico si potrebbe fare un'analisi, lei cosa dice? Beh, c'è una diatriba, comunque ci sono anche delle sentenze già in merito a situazioni di questo tipo, c'è stata una dell'Emilia Romagna, se non mi sbaglio, di un mese fa, che è di una famiglia che aveva preso una sanzione per lo spostamento fuori regione, con spostamento bloccato, e il Tribunale amministrativo mi sembra abbia rigettato l'istanza, adesso non mi ricordo bene quali fossero le motivazioni di carattere giuridico. Io dico sempre una cosa, sì è pur vero che si può in Italia, e poi siamo bravissimi noi italiani, ma italiani secondo me, riuscire a trovare tutti i lacci e laccioli impossibili, inimmaginabili per riuscire a derogare quelle che sono le norme di legge, penso sia una forma mentis interna del nostro DNA, esatto, del nostro DNA. È la sopravvivenza, ormai siamo abitati a sopravvivere, quindi aggirando, trovando sistemi. Sì, però non può esistere mondo, società e organizzazione senza regole, quindi di conseguenza secondo me devono essere rispettate il più possibile le regole. Per quanto a volte ci sembrano inique rispetto alle nostre libertà personali, quindi effettivamente è vero che si può ricorrere su tutto, so che i giudici di pace sono subissati da ricorsi per le sanzioni, per quelli che non portavano le mascherine, per quelli che non hanno rispettato il coprifuoco, per gli spostamenti che non erano stati garantiti con autocertificazione e tutto il resto. Però io dico sempre anche ai miei concittadini, soprattutto quando potevo fare le riunioni pubbliche, che un'organizzazione funziona se c'è un minimo di rispetto di quelle che sono le regole, penso sia anche il senso civico nostro nei confronti degli altri. Queste poi sono regole che vanno un po' a tutelare quella che è la nostra cosa più importante che è la salute. Dobbiamo avere un rispetto noi, in primis, anche per la salute degli altri, quindi io direi al telespettatore atteniamoci il più possibile alle regole. Poi le polemiche ci stanno sempre, l'importante è che comunque ci sia il senso civico, soprattutto il buon senso nel fare le cose come si deve. Chiaramente, ma le regole in realtà sarebbero pochissime, pochissime, semplici e molto chiare. Quando diventano tantissime per ogni piccola cosa e incomprensibili, soprattutto quando diventano incomprensibili, li scattano i meccanismi italiani di reazione. Io mi sono fatto un'idea e la vedo anche come sindaco, ma la vedo comunque anche nelle altre attività che poi sono connesse un po' all'attività amministrativa, perché mi ritengo più un amministratore che un politico. Succede secondo me questo all'interno della nostra società e di tutto il resto. Noi comunque in qualsiasi caso dobbiamo sempre e comunque avere un ruolo all'interno della nostra società, che è quella comunque di riuscire a rapportarsi anche con gli altri. Quindi reputo sempre e comunque che le regole devono essere rispettate. Vabbè, è corretto, è un amministratore pubblico, è correttissimo, faccio questo ragionamento. Dopo i telespettatori fanno i loro e si deve cercare sempre, però le regole purtroppo quando ci sono devono rispettate, indubbiamente. Pubblicità, questa è un'altra regola.